...2,13 m, secondo con 1,91 m è Giuliano... Dai Stefano! ...della Lecco Colombo Costruzioni, terzo sempre con 1,91 m è Stefano Federici della Bergamo Kreberg, quarto con 1,91 m è Michele Lombi della Lecco Colombo Costruzioni, quinto con 1,85 m è Daniele Crissoni della Geat Atletica, sesto con 1,85 m è anche artesani per la processa atletica, sesto è Alessandro Villa con 1,80 m, ottavo sempre con 1,80 m è Marco Crusca della processa atletica, nono con 1,60 m invece è Daniele Boncozzi della Bici Progetto Azzurri e decimo con 1,60 m è Lorenzo Sallarini della processa atletica. Dai Stefano! Dai Pier! Maier! Dai Angelo! Scusa Maier! No, no, è che, vabbè, mi ha risposto di tutto, no, sono appena finita, sono appena finita, sono appena finita da una 1,500 m. Intanto vi leggiamo la serie 1,55 m, che è stata vinta con 4,54 m e 96 m, velocissimo il primo giro, forse troppo veloce. Seconda, Rosalba Vassalli della Galle Bellinzona con 4,55 m, 98 m, terza con 5,10 m e 10 m è Giulia Marzano della Galle Bellinzona, e mi sa anche che prendono il pullman e quindi si ritrova lì. E quinta con 5,20 e 36 m valentina a sbattare nella tredica madre, setta con 5,22 e 56 m, così si rubba in sottola l'alto. Settima con 5,29 e 90 m per l'alto volumma costruzioni. Dai Angelo! Dai Stefano! passaggio molto veloce passaggio molto veloce ma anche Stefano sta facendo un'ottima gara passaggio ai 1.000 in 2.53 ottimo ottimo Angelo dai Angelo grande Stefano grandissimi cerca di incrementare Stefano Angelo un po' sulle gambe grande Stefano grande Stefano in progressione gli ultimi 300 grandissimo Angelo sta un po' arrancando dopo aver tirato quasi tutta la gara ma grande Stefano è ritornato è ritornato grande sta ritornando grande Stefano grande 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 vediamo gli ultimi gli ultimi 100 dai Stefano grande progressione dai Stefano eccolo 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 è sulla buona strada grande grande Stefano dai Angelo sta per concludere si ha canattar senza rete 1.500 metri grazie a tutti